Sei un appassionato di sfide? Partecipa al grande concorso VIT Ti Premia, quest'anno ancora più adrenalinico e premiante. Compra VIT Salva Spesa, VIT Mister 500 e i tovaglioli VIT Super Boom. Puoi vincere ogni settimana un buono dal valore di 500 euro e una vittoriosa auto ibrida in estrazione finale. Cosa aspetti? Accetta la sfida e partecipa al concorso VIT Ti Premia. Regolamento completo sul sito www.vite-tipremia.it Grazie per la visione! Grazie per la visione! La prestazione non è stata negativa a dire il vero, infatti sono stati degli episodi che loro hanno sfruttato in modo esemplare, chiudendo poi la partita sul 2-3. Sono ripartiti bene su 2-3 occasioni che gli abbiamo creati noi, con palla a noi. Centrocampo non è una questione di centrocampo, il problema è che c'erano ritmi molto alti, forse siamo calati un attimino lì in mezzo, avevo Bovino che non giocava da tempo, Vissicchi e quant'altro, quindi loro poi sono stati bravi a sfruttare l'episodio, però la prestazione secondo me è stata comunque positiva. Mister, un viguequenza che fa capire che non si può abbassare mai la guardia in questo raggruppamento, vengono 15 giorni assidui perché ci sono tre gare infrasettimanali, iniziando da sabato, che sarà un match di quelli importantissimi in casa del San Giorgio, ma a di là di tutto ciò, è una rosa quella del Costa D'Amalfi che sta pagando forse qualche infortunio, qualche squalifica di troppo. Sì, in effetti noi siamo un organico che purtroppo sta cedendo giocatori importanti come Infante, Guerrera, lungo De Gendi, quindi è chiaro che poi quando le partite si assottigliano e c'è bisogno comunque di ricambi, di far tirare il fiato a qualcuno, è chiaro che non hai, però al di là di questo, chi è che sta giocando, sta dando il meglio, non è, non posso andare a decidere in base a un risultato di oggi quello che i ragazzi stanno facendo. È chiaro che la sconfitta è figlia di errori che analizzeremo martedì e cercheremo di non ripetere a Castel San Giorgio. Squadre che entrano nel lotto dei play-off, squadre che escono, il Grotta pareggiando in casa della Virtus Avellini diciamo si è allontanato un pochino, però prepotentemente viene alla ribalta il Buccino, non la scopriamo noi perché sappiamo che è un viore di squadra, ha un allenatore importante, può essere la sorpresa del girone di ritorno? Sorpresa non direi perché anche comunque nel girone di andata ha tenuto fede a quelli che sono gli investimenti fatti dal Presidente, forse si sono quadrati di più, qualcosa hanno fatto a dicembre, rivoluzionando una rosa e secondo me fortificandola, hanno messo sulla manchina una persona esperta come Pietro Pinto, quindi penso che il risultato è la conseguenza di tutti questi fattori. Un'ultima domanda a Castel San Giorgio. San Giorgio, buona squadra, mister De Cesare, l'allena bene, sa il fatto suo, quindi fino alla fine possono uscire questi risultati a sorpresa, quindi la classifica penso che ancora non sarà definitiva, almeno per 5-6 domeniche ancora. Oggi sul campi della Malfi che ha fatto la differenza è un bomber tascabile, diciamo, però alla fine è un giocatore importante, veramente una bella scoperta non per noi, ma soprattutto per chi ti ha visto oggi. Hai giocato una gara favolosa, ha vinto il Vigo, Vigo che si rilancia ancora di più in classifica con l'avvento di Mr. Ferrari, il Vigo potrebbe essere una mina vacante di questo girone di ritorno. Sì, sì, prima di cosa grazie per i complimenti, per la partita fantastica non sono molto d'accordo, primo tempo non mi è piaciuto tanto, siamo stati secondo me un po' rinunciatari, secondo tempo abbiamo fatto vedere le vere caratteristiche del Vigo e Quenze, abbiamo giocato e abbiamo fatto una grande partita. Sono tre o quattro partite, sono forse tre vittorie consecutive che facciamo, ma questo è perché durante la settimana ci impegniamo, seguiamo il mister e i frutti si stanno vedendo. Senti, rispetto alla scorsa gestione cosa è cambiato? Io non c'ero, io sono arrivato al girone di ritorno, sono arrivato a dicembre contro il Cervinara, contro la Palmese e poi ho giocato con il Cervinara. Non lo so, non posso giudicare perché non ho visto il mister vecchio, però sono sicuro e ve lo posso garantire che il mister Giovanni Ferraro ci dice tutto quello che dobbiamo fare già dal martedì e arrivare in campo e andare in campo è più semplice per noi conoscere già gli avversari.